A Padova per le celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ricorda che un'intera generazione mise la propria vita al servizio dell'Italia per garantire alle future generazioni libertà, democrazia e pace. Valori che, aggiunge Casellati, non sono concessioni e non vanno dati per scontati. Vanno difesi giorno dopo giorno, conclude, devono essere ampiate e coltivati per poter essere tramandati. Sono fondamentali.